Ludovico Dolfo, banda del Cono del Reggio Emilia. Ludo, hai salzato l'ultima partita per infortunio. Fortunatamente ti sei ripreso a tempo di record. Come stai? Sto abbastanza bene. Sono in fase di recupero. Credo di farcela per domenica. Voglio essere in campo con la squadra e dare una mano ai miei compagni. Il Club Italia ti ha sostituito Alessandro Bevilacqua, facendo un'ottima prestazione. Sinonimo che la squadra è unita e ognuno può giocare sostituendo l'altro? Sì, sì, sì. Bevilacqua ha fatto una gran partita, ma come tutti i miei compagni. Diciamo che abbiamo una panchina molto valida e ogni giocatore può sostituire l'altro. Quindi in ogni eventualità ogni giocatore è fondamentale. Dopo una settimana di pausa si entra nel club del campionato. Come la affronterete? Sì, adesso ci aspettano partite molto difficili contro squadre sopra di noi. Dovremmo affrontarle con più carica agonistica. Affronteremo squadre forti, lo sappiamo, e cercheremo di vincere e guadagnare un posto importante nei play-off. Simone Bonante, palleggiatore del contro Gemiglia. Simone, domenica andate a Siena. Una squadra tosta. Come la affronterete? Allora, domenica sarà sicuramente una partita difficile perché comunque penso che Siena sia uno dei campi più difficili. Però andremo lì sicuramente per fare punti, per vincere e per allungare la striscia positiva che abbiamo, insomma, faticato per raggiungere fino adesso. La Valcata fatta in campionato in questi ultimi due mesi vi ha portato ad un piazzamento eccezionale. Siete a tre punti dal quarto posto. Adesso viene il bello. Avrete molti scontri diretti. Ci fai un'analisi della situazione? Allora, sono finalmente due mesi in cui riusciamo a esprimere il nostro gioco, in cui abbiamo cominciato a fare partite positive, a prendere punti. Il che ci ha permesso, insomma, di raggiungere forse un posto play-off inaspettato per alcuni, penso, al di fuori. Però noi sapevamo, insomma, di essere una buona squadra, eravamo consapevoli dei nostri mezzi e ci mancava solo una piccola scossa. Il che è avvenuto due mesi fa e ora stiamo continuando, insomma, a giocare bene. Ora viene il bello, sì, nel senso che avremo tanti scontri diretti prima della cavalcata play-off. Il che ci impegnerà parecchio, però andremo in campo, insomma, per vincere. Da domenica, soprattutto a Siena, per allungare la striscia. E soprattutto, anche nelle prossime partite, andremo in campo sempre per vincere.